Ehi, ciao a tutti amici e bentornati al nuovo episodio di Tomb Raider Fade Edition, puntata numero 11. Andiamo avanti, sempre più vicini alla fine. Sempre più vicini alla fine. Sempre più dura qua. È stata dura adesso, nell'episodio di prima, c'è stato un conflitto a fuoco tra Reyes. Con 15 persone che si attaccavano. Adesso noi dobbiamo prendere in largo questa bagnarola qui. Vediamo se ci riusciamo. Come fa? Non riesce neanche a... Ah, sta a scendere. Vai, che siamo in ritardo. Andiamo. Sta sistemando, ok. Vediamo come salita, saltando. Ok. Ammita Reyes. Chi guida? Penso Reyes. Clara, cosa pensi di trovare là? Davvero vuoi saperlo? No. Ma dimmelo lo stesso. L'anima di un'antica regina del sole intrappolata in un cadavere. È la sua rabbia a scadenare le tempeste. Distruggendo il corpo le tempeste si placeranno. Ok. E perché Mattias vuole saperlo? Non lo so. Ed è questo che preoccuparmi di più. È tutto pazzesco, lo so. E come se lo è? Ma non c'è rimasta altra scelta. Forza, facciamo. Allora, dobbiamo salvare la giapponesina. Ormai è dall'inizio che dobbiamo salvare la giapponesina. Siamo. Carichiamo. Colpo in cambio. Attento che sbatti con la... Ecco, attento. Bene. Vediamo come va a finire. Tu e Reyes ho sorvegliato l'ingresso principale, mentre io cerco sempre. Vuoi andarci da sola? Sì. Dovete restare qui e resistere il più a lungo possibile. Potrebbero arrivare a Solari, ma anche altri. Solari. Samurai, la guardia donante della regina del suo. Sparate a chiunque tranne che a me o a Sam. Sparate a chiunque tranne che a me. Non ti dirò addirittura. Quindi anche a Whitman. Perché questo non lo è. Ti copriamo, Lara. Eh, dammi una coperta che sono freddo. Ah, benato. Ma lei come spara che ha un braccio? No, ma lei rimane sulla nave. Eh, ma dico, lei come spara? Cioè, dove sparare solo lui? Scusa, come fai da solo? Allora, ha detto, sparate a qualsiasi cosa tranne a me. E' a Sam, quindi a Whitman possono sparare, giusto? L'ha detto lei, eh? Allora, sembra arrivato. Che si fa? C'è un palo. E là c'è una piccozza. Ok, dobbiamo andare lì. Sembrerebbe? Sembrerebbe che sparare. Sembrerebbe. Vediamo se funziona. Tu l'hai sentito che ha detto? Sparate a tutti tranne che a me e a Sam. Quindi a Whitman non possiamo sparare. Lei non si fida di Whitman. Infatti, neanche. Io l'ho visto già dalla faccia che mi credeva. Dall'inizio. No, ora ha le prove perché ha portato via la ragazza. Ha le prove. Ha le prove. Attenzione, c'è Stingo. Ecco Stingo. E c'è anche Whitman. E anche il signor dottore. Eccoli insieme. Che ti è salvato il mondo di Whitman. Chi è? Chi è? Certo, certo. Ho qualche esperienza di tribù arcaiche. Sentiamo, dottore. Ci parla lì. Salve. Sono il dottor James Whitman. Il giapponese. Vengo in pace. Sì, come no. Vi porto la vostra nuova regina. Chi è? Non c'è. La regina. La regina. Non mi debbano tanto convinti. La vostra... Joe. Oh, vabbè. L'hanno spaffolato. L'hanno spaffolato. Ha detto una parola. Oh, come? Oh, via. L'arra di via. Eh, devi fare forza. L'hanno spaffolato. Bram. Lava. Jack. Rose. Jack. Ah, no. Evidentemente il dottorato non sapeva il cinese. Ecco, mento e si vanta. Poi non sai. Allora è morto. Stato squartando. Non c'è manco fin cadavano. Eh, Whitman. Sei tu? È lui. Whitman. Whitman. Sei tu? Io l'ho preso. Ammattolo Whitman. No, non è il materiale. Non è lui. Vabbè, un. Ecco, devo avere materiale. Allora, ecco è lui. No, allora c'è un pezzo. Eccolo. Sì, va bene. Un secondo. Allora, come si fa a passare di là? Ah, c'è un palo. Che è il suo? C'è un palo. 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 Kasumoto, lì. L'hanno usciso. I samurai. I japonesi. Kasumoto. L'ultimo samurai. Guardate. Cerca Tom Cruise. Quindi Tom Cruise. Bellissimo film. Vabbè, se lì dovremmo affrontare questi samurai, come sono tutti corazzati, come gli spazi. Cerca sempre nel monastero. Ho detto nel monastero. Chi è? C'è le munizioni. Eh, non me le fa prendere. Salve. C'è sempre qualche cadavere da qualche parte. Attenzione. Ce n'è uno. Sono giapponese. Ok, tranquilla. Sono giapponese, è ora di rispondere. Sono giapponese. Bello, fatto in questo livello, non è niente molto. Lo so, è una porta di là. Cosa c'è qui? Un redbull. Ah, ok. Dobbiamo bruciare. Possiamo passare? Grazie. Lui si vantava? Oddio, i dottorati. Sono il dottor Whitman. Quelli già avevano le mani più da spada. Oh, c'è. Cos'è? Mamma mia, chi è questo? Oddio. Chi è? Posso lanciare una bomba di facciamoci? Puoi provare? Penso che... Fincavolo no? Penso di sì. Vediamo che succede. Ah no. 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 Tantariamente. Ci hanno maciullati. Ok, non dobbiamo farlo. Non dobbiamo farlo. Non disturbare il giapponese che dorme. Non era da fare questo. Non era da fare. Ah beh, non lo sapevo. La tentazione era troppo forte. Beh, c'è una processione. Tu vai avanti. Vai avanti. È proprio qua, è il nord. Vabbè, non è tanto rosso. Vabbè, noi dobbiamo passare... Come no? Sono tre l'ara l'uno sopra l'altro. Vabbè. Da lì. Mi vedo? Sì, sì, vai via, via. Io ho provato ad accendere la bomba perché non ho macchillato. È bello il tempio, no? Sì. Ci hanno messo un secondo. Le campane. Forse c'è un'altra. Devi andare qua? Sì. Ci vedono? No, ma no. No, ma no. Ah, devi andare qua. Mi passiamo tutto il tasco. Che è? Non ce l'ho mai fatto questa volta. Uuuuh, ma no. Che è che succede là sotto? C'è una specie... Questo qua è il paese. Chi è? Sono uno dei campani. Spettacolare sto livello. Ma che roba. Aiutami. Non fai tutto il muro. Tutto il muro a tutto. Poi? A sinistra. No, ce l'hanno visto. Ce l'hanno visto. Il cicciame ci ha visto. E' uno. Ci ha visto. E' uno. Via, 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 via. Il cicciame. Via, via. Non ce l'hanno visto. Era previsto vi finisco che. i soldati fanno sempre non sono molto amichevoli ecco qua dove siamo finiti? dove siamo finiti? che è? aiuto! oddio chi lo ferma qui? che è? spiderman? guarda dove si muoveva oh ma no ahah mi hai tirato addosso agli altri aiuto ho bombe per caso dove sono andate? due si è quel tempo che ha detto? non lo so non parlo di un po' niente aiuto sono tipo delle mummie sono sopravvissuti fino ai giorni nostri eh è a quanto pare è impossibile che siano sopravvissuti fino ai giorni nostri e invece sono qua ecco e invece sono qua vabbè perché sono sono zombificati che ne so chi è? chi è? ha un topo? diventa un topo che è una statua lì per terra dove? ma vabbè non devi fare niente dove la fai? sulla tua sinistra dove? una statua non la vedi sdraiata ah ti baci sulla panza va bene va bene va bene non avevamo una tappa è caduta allora qua c'è un accampamento passaggio coperto abbiamo una salvata vediamo se abbiamo eh fucile da battaglia la fissa a carne mozza a fucile a fucile da battaglia sono i topi che può teneu quando compagnia la puntabilità 67 50 50 maestri arco questo è utile dai abbiamo materiale la bomba e 34 37 50 pallottole incendiarie applicano sostanze incamabili dalle pallottole questo è utile forse l'arco qualcosa con l'arco abbiamo la corda intrecciata e anche il moschettone facciamo che in bomba aspetta no leggiamo cos'è che fanno aumenta danni infitti dalle vabbè fai questo più danno possiamo andare avanti lo seguiamo 9 su 10 diari di lara noi non l'abbiamo ascoltata però stava scrivendo i diari guardate qualche bello ce la fa e e e lì dentro Oh, chi era quello? Fermo! Sono Reyes e Giona che stanno sparando C'è una roba in Salamoria No, 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 non c'è la roba niente No, no, niente Allora, praticamente dobbiamo salvare... Sì, salva sempre da Sting Guardate il realismo Guarda, non riesco a... Non riesco a camminare di quanto Ok, adesso Aia C'è il botto Chi è? Ehi, dove è arrivato questo prezzo? Oddio Guarda quanti fanno Oddio Guarda quanti fanno È arrivato pure Big Shot Big Shot Giapponesi Oh, il punto è il quale motivo Oh, no Vediamo che sapete fare Come vediamo che sapete fare? Ma stai scherzando? Vediamo che sono Giapponesi Go Go Attenzione Go Go No L'ho buttato di sotto Ok, ma io... Questa è un inquarante Non so dove si nasce Giapponesi Spero che tu abbia munizioni Per sicuro Giapponesi Giapponesi Ah, sì Ha funzionato Uno su due 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 Aiuto Chi è ancora? Ah, l'è Eh, non è male No, ancora è vivo Ah, perché c'è uno spazio di acqua di là Oh, vita, non è mancato Ok, questi hanno l'armatura Sì 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 Ok, siete venuti Non prese, sento la musica No, cazzo Ah, lontano, lontano Chi è? Oh! Chi c'è in vera? Chi c'è in vera? Oh! Aiuto! Chi è? Eh, arrivano Questa è lo scudo Ha! Riesci a prenderli? No Ci vorrebbero quei cosi lì che tiravi prima Eh, lo so, lo so Oh no, sono in troppi Sono in troppi Sono in troppi Sono in troppi Sanno anche le frecce Bello sto livello Però sono in tanti E uno, lo stai seguendo Ah, ecco, fattino uno Ok Lo metto? Oh! Ah, può dover scappare? No, non so quando scappare Ma forse si può Perché non è Oddio L'ho circondato Quanti sono? Mancando di evitarli E più o meno di... Aiuto, mi servono Così? Aiuto Quanti sono? Oh no No, bella Ho più bombe Ho più bombe Ho più bombe Quanti cazzo sono? Non lo so E qua lo metto con le tre E li butto questo di sotto Aia E' uno dietro con lo spadone Eh, l'ho vinto Mia, tutti questi sono Ah, ecco, questi sono Aiuto Aia Aiuto Ma... Ma... Dai troppi Mamma mia Devi trovare quei punti lì e... E portarti una Aia Buttarvi quelle specie di tagli Ma quanti sono? Sono... Almeno 15 sono Stanno maciullando Ma... Cosa si fa qua? Ma c'è un'altra di quei copi Ah, eccolo! No! 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 Ma non me lo so, grazie! Oddio, sono in troppi, ragazzi! Vabbè, ce l'ho da fare! Ok, è così che non siamo troppi! Siamo troppi! Poi c'è anche quello lì, attenzione! Addio! Come si è? Adesso sembra che stia andando bene Sembra Seguiamo! Che ne sono ancora? La venta a morte, sì! Lui! Molto bene! Molto bene! Ok, andate, andate! Solo lì! Ancora! Ancora! E ancora uno sulla... Andate! Facendo! E' un po' di pena! E' un po' di pena! Questi li devi sempre tenere con te! Mi devo portare uno di tutti! non c'è l'altro di dietro si è caduto morto stiamo avvicinando dai ah vieni si riuscita un po' ah li fai sfruttare bellissimi ormai riflessi die of the tiger via però ganni mi subito dopo un po' dai aiuto ecco lì si però sono chiusi qua nel lì lì ce n'è uno nell'angolino eh lo ve l'ho visto e ma qua nel pa- sei troppo vicino qui ci vai cancare una bomba non c'è non c'è un filo morto aia cosa ne ancora? aia aia questo corre questo corre questo corre gli altri non correvano questo è utile è fuori un po' in pace ok mamma mia sono finiti non c'è più la musica sono finiti? ma la grande mi fai che c'è strage ragazzi mamma mia no ah c'è una minuzione sulla destra forse non so se ti servono però allora vediamo un po' non mi servono c'è una roba in salamoia dov'è? ah no è una lampra via ragazzi abbiamo sofferto attenzione non la porto non la porto ce ne saranno ancora? no se non la porto no aspetta dove vai? l'altra parte vuoi andare? guarda che non è fifa eh non è fifa attenzione tiro e gol ah ecco nooo ecco dove dai qua è finita è finita è finita è finita è finita no che male arriva nella legge oh è andato è andato è andato oh è troppo facile io non ci giurerei che è morto non è bella attenzione si è strappato i quanti quando si è strappato i quanti non è in me si sta strappando tutto Allora penso che qua dobbiamo fare Il fornimento Prima di Ecco giochiamo un po' a tira bersaglio Facciamo finta che questo sia un nemico Vediamo una salvata ragazzi Ho 500 materiali Possiamo fare qualcosa Cosa abbiamo? 37 Questo qua Cosa abbiamo? Allora abbiamo freno di bocca Aiuta a ridurre il contraccolpo Poi abbiamo doppio caricatore E espulsore levigato Io direi doppio caricatore per adesso Tu che dici? Eh si doppio caricatore Abbiamo più colpi Ok possiamo andare avanti Proseguiamo Proseguiamo Possiamo andare Abbiamo ancora Una maniera di cose da fare Attenzione Siamo in una sala grande Rebus Rebus C'è un rebus ragazzi Allora vediamo come funziona questo rebus Abbiamo due cose per tirare qua Uno dall'altro Uno dall'altro Vediamo un po' tirando questo cosa succede Ah c'è un aggeggio là sotto che non riesce a passare perché è tutto Allora forse l'altro serve ad aprire Vediamo Vediamo se ci ho visto bene Questo dovrebbe servire ad aprire quella specie di piattaforma Vediamo Perfetto Questo serve ad aprire No anzi buttarli dentro E l'altro serve a tirare su questa specie di cosa Vediamo che cos'è Mi sembrava una specie di campana Un lampadario Puoi usarla come tipo piattaforma per lanciarci Vediamo cos'è Sì Tira Tira Ah infatti c'è la cosa legata Ok a cosa serve Ah per rompere la piccosa Per rompere quella parete serve Quindi forse tirandolo da qua Perciammo ad aprire Vediamo un po' Allora se possiamo A risolvere questo rebus Opla Vediamo se la rompe È troppo poco Ok Ah c'è un La di bossa nera Quale è il problema C'è un altro rebus C'è un altro rebus Devi saltare su Dobbiamo saltare su questo coso Probabilmente Per salirci sopra Vediamo se facciamo così C'è No Troppo lontano Troppo lontano Ah ma c'è un piano di sol Ok C'è un piano di sol Vediamo se Cosa c'è qui Sì da lì Prima la devi tirare C'è una carta C'è una carta Aiuto Noi i cadaveri qua Mi scappassamento C'è una cassa 365 materiali Ah c'è qualcosa Una mappa Fatto No È andato in pausa Mentre sto saltando Ok Allora Vediamo se possiamo Tirare da qua Cosa c'è Presumo Dopo che da qua Dovemmo riuscire Vediamo un po' Ok aspetta Tempismo No Ahia mi sono scassato Perché non riesco Eh ci vale più tempismo Era giusto L'idea Questo serve per tirare Pianco da qui No No L'hai portata giù Eh dobbiamo Ok quindi Dobbiamo tirarla su Ma tutto per forza No forse lo puoi trascare a metà Faccio così? No Tornati No Ok Ok Giustamente dobbiamo fare Di tentativi Non è che Conosciamo il gioco Ok Quindi sto cosa Rimane così E abbiamo capito Proviamo a risalire Ma cosa succede? Ci sono dei tentativi Un po' di tentativi Da Un po' di tentativi Sì devi solo trovare Un punto migliore Da cui saltare Forse dove c'è la piattaforma No Guarda Va bene No forse da qua ce la fai Vediamo No perché Devi saltare da una posizione Su una me dove non Sei più vicino Forse dai lati Da uno dei due lati Sempre lassù Ah da uno dei due lati Eh Forse da uno dei due Forse eh Non lo so Proviamo Vediamo qua Da qua Se ci arriva Sì sotto Vediamo un po' Eh Si aggrappa No 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 Siamo caduti nel fosso Vabbè sono morto Vabbè dai Questo non vale Siamo caduti nel fosso Vai No No Brum Stiamo caduti nel fosso Siamo caduti nel fosso Siamo caduti nel fosso Qualcosa qui Ah ecco Vedi Non sappiamo perché Non abbiamo preso questo Allora che c'entra Che cosa c'è Questa terracotta cinese Avrà migliaia di anni Una funebre canso Questa terracotta cinese Avrà migliaia di anni Eh Cosa c'entra Cinese qua Infatti Non c'entra niente Si chiede se i cinesi Vengono all'isola Ben prima degli Yamatai Può essere Cosa c'è una cosa Di antropologia Ma gli abbinanti di Yamatai Sono Yamataisi 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 C'è una scala no Eh è rossa Cos'è È rossa qua Come è rossa Qua Deve andare a fuoco Questa No Non va Non va Non va Ho provato Allora Forse da qua Vedi quella piattaforma Eh infatti Anch'io pensavo da qua Da qua Forse da qua Perché sei ancora più in alto Si Da questa casa Se riesci a tirare Da qua dovresti riuscirci Siamo un po' Se arriva fin qua però No 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 Non ci arriva Troppo in alto Ah troppo in alto Ah ok Non dovevi andare Allora da qua Andiamo da qua Troppo in alto Troppo in alto Adesso troppo in alto Eh ma qua è troppo in basso Qua è troppo in basso Ma che cavolo dai Aspetta ma da qua E da qua è uguale Da qua è uguale Ora salta Aspetta aspetta ora ripassa No no è troppo in alto No non è troppo in alto Prima ho detto troppo in alto Qua non c'è una via di mezzo Aspetta ma non è che devi sparare Fai L1 Che devo sparare Alla al muro lì Però vedi che In teoria dovresti riuscire a saltarci sopra Aspetta intanto facciamo un'altra cosa Da qua non l'abbiamo mai provato Da qua non l'abbiamo mai provato Andiamo da qua Tira tira Ora No Però scusa un attimo Vediamo quella roba lì Che tanto Ah sì E evitare di cadere anche qua E di fare tutto Ecco Ma aspetta Se la porti giù forse rimane Ora lasciala cadere giù Dall'altro lato Ah eh Così perché era troppo alto E' troppo in alto Eh eh Troppo in alto Quello diceva eh Non ci abbiamo pensato Ecco perché Ora sicuramente riusciamo Certo Ah adesso ci salti facilmente Ora sì Siamo scemi Non lo sapevamo ragazzi Non ci ricordavamo C'è caldo qua Non ci vediamo in mente sta cosa C'è anche caldo Quindi il tempo di fare le cose Eh troppo in alto Il tempo di ragionare C'è caldo qua Adesso sì Ora sì Posso saltare Ok Rebus è risolto Non senza fatica Vabbè però è risolto C'era la porta tra l'altro Però non è chiusa Le regine del sole La prova in cui la regina Sceglie la sua erede La sacerdotessa prescelta Entra nel monastero Riceve il potere E diventa la nuova regina Un momento Sai quante persone Ne hanno dato l'anima Per questo Per la prima e ultima regina Resta un'anima Sospesa in un corpo deperito Chi è? Sting Ricertacolo Non ereditano il potere Ricevono un'anima Queste regine Queste regine Erano 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 Il Miko E lei? La prima e ultima Oddio E la prossima è Sema Ah quindi sacrificare le altre Ma la prima e ultima Ho capito Quindi lei non è la regina La giapponese Un ricettacolo per l'anima Della regina Devo fermare questa foglia Quindi sono forse migliaia di anni Che uccidono le persone Per dare la forza Per dare la forza A quella regina lì Qua al solito Già lo sapete Inutile che lo ripeto Ah quindi serve Queste qua Sono tutte persone sacrificate E poi gli fanno la statua No? Per dare il potere Alla regina Alla regina Quella lì Vediamo cosa c'è di qua Spero materiali Sì Ecco lì Che chiamate Non dire spero samurai Spero samurai No non c'è E anche i lupi I lupi qua in alto Che ce li vuol Faro materiali Eccoli qua Andiamo avanti Punto di non ritorno Lara non potrà più Sarebbe a girarmi Che dopo questo accampamento Bene Buona sentenza Ok Vediamo se abbiamo qualche cosa Forse no Forse sì Si lo sa Vederemo Vediamo se abbiamo qualcosa da No 325 300 Qua niente Andiamo qua Forse è l'arco Forse è l'arco Ah no Abbiamo l'espulsore Ah va bene Espulsore irrigato Va bene Serve aumentare la cadenza di fuoco Vuol dire che i proiettili Vanno più veloci Arrivano più lontano Ok ragazzi Ci fermiamo qui con questo episodio Siamo a un punto di non ritorno Quindi prevediamo che manchi un livello Probabilmente il prossimo sarà l'ultimo video della serie Quindi tenetevi aggiornati al solito Vi ricordiamo di lasciare un like Seguirci sui social Iscrivetevi al canale Lasciate un commento Diteci la vostra E niente Noi ci salutiamo Ci vediamo al prossimo video Probabilmente sarà l'ultimo Un saluto da Lara Un saluto da Dave e Marshall Ciao Ciao